Buongiorno Salve, mi dica E niente, vorrei iscrivermi perché tra un po' arriva l'estate Lo so E no, quindi vorrei togliere un po' di pancia, ecco Mettere su un po' di massa muscolare E fare un fisico alla Raoul Bova Senta, abbiamo il programma adatto a lei Ah sì? Ma sì, lei dice Raoul Bova Noi qui le facciamo il fisico alla Sylvester Stallone Mamma mia Mi avevano detto che facevate i miracoli Ma non credevo fino a questo punto Venga, venga Abbiamo il programma adatto a lei Sì Venga, venga Da questa parte Ma gli attrezzi? No, è da questa parte Allora, si inizia con il riscaldamento Ma stanno pregando? Appunto Dopodiché 20 minuti di dorsali e braccia A fetture pesce, no A lasagna, no A Tu c'è subito Con calma Prima c'è la prova resistenza A pistette e carne, no Il corpo del piatto A me Il corpo del piatto A me A me A me Il corpo del piatto Col sale Vatta a confessare subito Che mi dice? È che io pensavo Ma lo pensano tutti Venga, venga No, nel senso che io Cioè, ero rimasto alle flessioni Addominali, i pettorali Ma lei è proprio sicura Che funziona questo metodo? Ma certo E come mai lei Ma lei che? Invece, dico Ma invece che cosa? Come fisico Ma come fisico cosa? Ma lei non ha fatto il percorso Non l'ha fatto È che Lui non mi ha accettato Ma lui chi? Il corpo del piatto Su, forza Vada a prepararsi Ma forse è medio Ma che non lo vuole più Il fisico Allora, Raul E che mi sembra tutto Un tantino esagerato Troppo tardi Mi ha già visto Il corpo del piatto Dimmi figliolo Allora tu Vorresti il fisico Di Raul Bovan E lei come lo sa Maestro Giusto Padre Perdona loro Perché non sanno Quello che fanno Ma che fai? Ma no Ti vieni a scuola Ma Ci vieni a scuola Ci vieni a scuola Ricicola 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 Però a me Mi poteva Facare un fisico Belen Ricicola Grazie a tutti.